Toto 90, brutta sconfitta, è vero che di fronte avevate New Team, quindi non c'era niente da fare, no? Sì, erano comunque subito, l'hanno segnato poi subito all'inizio, subito, visto che erano superiori a noi. L'altro non lo sapevamo già, questa non era la partita in cui dovevamo fare i punti. Anzi, speravamo di fare qualche gol in più, magari invece di uno soltanto. Poi siamo stati l'istinto, anche il diadrino ci ha dato questo bonus negativo, però voglio dire. Però qualche contropiede l'avete avuto, ma non l'avete concretizzato. Poi c'è stato l'articolo 11, dato dopo l'inizio della partita, che tra l'altro è un amico mio. Proprio non è portiere, nasce attaccante, ho già preso di tutto, veramente incredibile. Sembrava lui il portiere invece che io, praticamente. Poi gli avversari, che dire, erano veramente di un altro pianeta. Secondo me poi anche vinceranno loro il campionato quest'anno. E oggi gli avete fatto fare un bel po' di punti pure, quindi? Sì, hanno fatto, se non sbaglio, 3-2, una tripletta, i 5 gol di scarto, un bel po' di punti, hanno fatto festa. C'è qualcuno da salvare da voi? Ma io dico, dico semplici di perché corromi, Falcone e Borruso. Falcone e Borruso? Ho capito. L'italiano ha giocato, però il giallo lo penalizza. Va bene ragazzi, vi ringrazio e ci vediamo venerdì prossimo. Grazie, ciao 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 ciao. New team, sempre più primi, oggi festival di gol, lo può dire anche Scafidi, no? Sì, sì. Quanti gol hai fatto? Sette gol. Eh, non è male. Sì, buono, buono. Li avete diciamo distrutti questi total 90. Ci tenevamo molto, visto che con cui neanche ci hanno voluto concedere il portiere, non si capisce per quale motivo. Sono stati puniti, se veramente. Ci tenevamo a mettere le cose in chiaro. Poi di preoccupazione per i momenti di panico, dimitri, dimitri ha avuto un crollo di sali. Allora, poi nel secondo tempo si è ripreso, no? Sì, sì, si è ripreso, ma non ha fatto il gol. Già che la partita era goiosa, quindi ho detto. Ho preso più, più prima c'è la partita. In gol anche a Michelle, l'abbiamo visto. Il primo post stagionale, mi hanno fatto un applauso sul primo post stagionale. Allora, vai qualcosa di dire su quell'intervista di Special Five, che è successo? Ti dico soltanto gli Special Five, perché è duro arrivare penultimo al classifico. Eh, sono in buone armi. Non abitano in buone armi. Di non prendersela con me, soprattutto dico, anche se io sarò un ciccione, dico, mio Fazio e Piero sono esattamente questi, questi rifulli di guerra. Quindi, insomma, che queste cose se le tenessero per loro. Comunque, un bocca al lupo per i carri. Per la foto da sece. Tornando a voi, diciamo che ormai la Serie B l'avete in tasca, no? Sì, ha un passo. Mancano poche partite pure. Sì, mancano due partite. La prossima vinciamo che non siamo attivamente campioni del torneo. Insomma, oggi ce l'ho scontro Zenit e Black Devil. Vediamo come va. Viglio in campo oggi di voi? Va bene, lo diamo a Scafidi. Ma solo perché ha fatto 7 gol. Solo per i 7 gol. È stato molto ingordo. 7 gol, insomma, c'erano tanti bei compagni. Però va bene, dai. Anche un assist comunque. È vero, anche un assist. Sottolineiamo. Va bene ragazzi, complimenti nuovamente e ci vediamo venerdì prossimo. Grazie, ciao, ciao, ciao.